Comunque, mi è appena arrivata la notifica sul telefono, la stavo aspettando, finalmente è arrivata, ho ordinato su ebay una cosa, una botte, bellissima, quindi senza perdere tempo andiamo a prenderla. Bene, è arrivata, mi è appena consegnata, è la botte che serve a me per questo progetto, la metto da parte, è pesantissima, sapete già cosa vuol dire, pesante vuol dire qualità, ok, la prima cosa che devo fare è sicuramente spacchettarla e poi creare un sistema per stabilizzarla, magari delle gambe, ho già in mente come, spostiamoci in fare la gnomeria. Grazie a tutti. Allora, iniziamo a immaginarci la disposizione, una a destra, una a sinistra e ci metto la botte sopra, se ho fatto tutti i calcoli giusti dovrebbe stare sopra e non rotolare via. Ok, funziona, però abbiamo un problema di stabilità, nel senso, vedete, oscilla la botte, potrebbe cadere in avanti o indietro, quindi per stabilizzarla mettiamo altre due asti qualaterali che terranno perfettamente parallele e stabili le basi, così non oscillano più. Ok, i pezzi sono questi, quindi colla e viti. Iniziamo uno da questo lato e l'altro dall'altra. Grazie. Ok, questo lo lasciamo asciugare qua. Nel frattempo sono già arrivati degli altri pacchi, infatti ho fatto un po' di ordini su ebay e c'è tutto quello che mi serve per il mio progetto. Infatti voglio costruire non una cuccia normale, classica, ma una cuccia high-tech. Infatti ho qui davanti a me il cervello che comanderà il tutto, ovvero abbiamo un termostato che sarà in grado appunto di capire la temperatura all'interno della cuccia e in base a questa andare poi a accendere dei dispositivi. Infatti la mia idea è quella di garantire il comfort ai cani per tutto l'anno, quindi possono restare caldi in inverno e anche belli freschi d'estate. Iniziamo a pensare all'inverno, come scaldare dei cuccioli in una cuccia. Questo componente che ho scelto è veramente fondamentale, considerate che solitamente viene venduto e usato per scaldare i terrali, quindi per tenere caldi i rettili, i serpenti. Io invece lo userò per tenere al caldo dei cagnolini un sacco belli. Quindi quello che basta fare è collegare l'elettricità e questo qua si scalderà. Il pezzo successivo invece avrà l'esatta funzione opposta, ovvero tenerli belli freschi. All'interno di questo pacchetto c'è una ventola, solitamente è usata per raffreddare i computer, ma perché non usarla per andare a ricircolare l'aria all'interno della cuccia? Questo infatti ruotando andrà ad aspirare via l'aria calda all'interno e così i cani staranno sempre belli freschi. Ma io direi, iniziamo subito ad aprire un'apertura, così riesco anche a infilare le mani dentro e a trafficare dentro la cuccia. Spostiamoci di là. Ok, la cuccia voglio farla molto semplice. L'entrata avrà una porta tipo proprio stile cartone animato con una porticina stile topo, quindi con una parte sopra curva, così. E poi andrà giù a scendere dritta. Tac. Tac. E qua si chiude. A questo punto tagliamo il pezzo. Oggi ci saremmo puoi dormirci in quattro dentro tra gli altri. Ora che la cuccia ha anche una porta, passiamo al passaggio successivo. Ho pensato, siccome tutto quanto va a 12 volt, perché non sfruttare questa cosa e rendere completamente autonoma la cuccia, così posso anche metterla dall'altra parte del giardino, in mezzo a una foresta, dove voglio. E quindi collegarci direttamente un pannello solare. Ed è proprio questo che ho comprato su ebay. Un pacchetto che contiene proprio un pannello solare. L'ho scelto di una dimensione più o meno idonea alla cuccia e anche comunque di una potenza molto elevata. Quindi apriamolo, ve lo faccio vedere. E voilà. Questo pensavo di metterlo sul tetto della cuccia, ma questo pannello solare non basta da solo. Abbiamo sicuramente bisogno di un cervello che va a controllare la tensione che arriva da questo pannello. E ce l'ho qua. Qua dentro questa scatola c'è sia la centralina che comanda la carica e la scarica, il voltaggio e tutto quanto, ma abbiamo anche un pezzo interessantissimo, molto pesante, che compone questo pacco. Ed è questo qua. È una batteria a 12 volt che andrà ad accumulare l'energia prodotta durante il giorno dal pannello solare e lo eroguerà durante la notte. E alimenterà i vari dispositivi presenti all'interno della cuccia. Questa batteria avrà una funzione importantissima, accumulerà l'energia prodotta dal pannello solare durante il giorno e andrà a erogarla durante la notte, quindi potrà azionare o il filo riscaldante oppure la ventolina per mantenere fresco il cane. Ora vi starete sicuramente chiedendo, ma Rulof come si fa a cablare tutta questa cosa qua? È molto semplice. Disponiamo tutto sul tavolo e ve lo faccio vedere. Iniziamo quindi a portare l'alimentazione dalla batteria alla centralina e anche al termostato. A questo punto facciamo comparire i pannelli solari che porteranno sempre alimentazione alla centralina. Ora non mi rimane altro che collegare la ventola e il filo riscaldato passando dai contatti interni presenti all'interno del termostato. Quindi ecco come si presenta tutto lo schema elettrico completato. Mi sembra tutto chiaro, non mi resta altro che costruire una scatola dove inglobare tutta l'elettronica. Ci spostiamo al computer e poi alla CNC. Quindi sul mio software di disegno 3D iniziamo subito a rappresentare la centralina che era quella del pannello solare. Su questa disegniamo un asso di legno, la ritagliamo e quindi possiamo anche incidere un logo. Elaboriamo quindi il G-code che sarebbe il linguaggio che legge poi la macchina, ovvero la mia macchina per il taglio CNC e siamo pronti quindi a impostare tutto e a tagliare il pezzo. Beh direi che ci ha messo un quarto d'ora circa ma il pannello, la scatola a comandi è terminata. Bellissimo. Rispetto a mesi fa direi che ho imparato a usare benissimo questo macchinario. Ci sono le ultime due cose da rimuovere, ovvero questi spazi qua. Guardate che roba. Qua ci andrà il display del termostato e qua invece il display del regolatore di tensione dei pannelli solari. Una passata di lima e ci siamo. Questo piccolo sensore è la sonda del termostato. La sto appoggiando sopra la resistenza che si sta scaldando e come massimo picco, ho verificato anche con il tester, ho raggiunto 45 gradi che è una temperatura accettabile e non farà male al cane ma lo terrà bello carico. Posso installare quindi il termostato e anche la centralina sul quadro di comando di legno e come vedete l'incastro è veramente millimetrico. Questa è la centralina che scarica e scarica la batteria con i pannelli solari e anche qua possiamo notare che ho fatto un lavoro davvero preciso. I tasti gialli e il display combaciano il mio. Fantastico. La colla ho preso bene, anche i chiodini e ho già collegato tutti quanti i vari cavi elettrici alle parti elettroniche. Posso quindi ora prendere il pannello solare. Con il trapano faccio dei fori perfettamente centrati per avere poi il peso equilibrato e bilanciato. All'interno di questi fori posso posizionare delle viti con un comodo pomellino e dei supporti appena ritagliati vanno forati dello stesso diametro. Per dire che sto realizzando dei supporti, più avanti capirete meglio dove andrò a impiegarli. Ma la cosa fondamentale è avere dei pomellini che possono stringersi e fissare il pannello in posizione. Quindi ecco come si presenta. Ok, tutti i pezzi sono pronti. Io pure sono pronto. Devo assemblare questa cuccia in un posto particolare, una pensione per cani che aspettano un padrone. Per fare questo ho bisogno di spostarmi all'esterno. Devo quindi portarmi dietro degli attrezzi. Ho trovato un'offerta imperdibile su ebay. Mi riferisco a questo, un trolley con veramente un'infinità di pezzi. Guardate che comodo. Questo qua me lo posso portare dietro anche quando viaggio in Sardegna. Beh direi che ho tutti gli attrezzi per montarlo. Quando sarò lì non avrò certamente problemi. Quindi spostiamoci, andiamo alla pensione. Ciao. 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 sto praticamente avvitando il pannello solare sopra un supporto in modo che il pannello solare possa basculare in questo modo ora potrebbe sembrare inutile perché il sole è da quel lato là ma se ci pensiamo il ciclo solare di inverno ed estate sarà molto diverso quindi sarà fondamentale poterlo orientare secondo le nostre esigenze è tutto montato prendo il cavo riscaldante e lo faccio passare da un buchino qua dentro la cuccia entra qua dal retro della botte tutto dentro ora dispongo questo filo riscaldato creando una specie di spirale una s e lo metto qua sul fondo per evitare che cani rosicchino questo cavo posso proteggerlo mettendoci magari anche un cuscino morbido in gomma piuma ci stessi mi sdraierei anch'io qua dentro mica male quindi la parte per l'inverno l'abbiamo fatta la cuccia sarà sicuramente calda ma pensiamo invece all'estate come tenere freschi i cani molto semplice una ventolina questa andrà a succhiare via l'aria calda e la mettiamo qua dove ho fatto già il foro tondo quindi qua sopra devo cercare di mantenere la più in alto possibile perché tutto si incasterà millimetricamente adesso prendo tutta la parte elettronica quindi abbiamo il termostato che accenderà il raffreddamento riscaldamento della cuccia e la centralina che invece comanda la carica e la scarica del pannello solare quindi ho già attaccato qua due piccole staffe e posso semplicemente avvitarlo qua sul retro naturalmente faccio passare prima il sensore del termostato e lo faccio passare qua in alto eccociare il nostro corso passare qua in alto Beh direi che ha apprezzato la cuccia nuova, con questo ragazzi spero che il progetto vi sia piaciuto, direi che è molto semplice, vi ricordo che qua sotto trovate tutti i link dei prodotti che ho usato, ringrazio assolutamente ebay che mi ha fornito i materiali necessari, quindi grazie ebay, vi ricordo anche il video precedente, quindi trovate entrambi i link qua a fianco e noi come sempre ci vediamo settimana prossima, vero nuvola? Ci vediamo settimana prossima, ciao! Grazie per la visione!